Buongiorno Davido, non ci sentiamo da qualche giorno quindi oggi recupero un po' di news degli giorni passati però prima una curiosità, probabilmente per l'effetto Badermainoff, cioè quell'illusione di frequenza che una volta che vedi qualcosa o parli di qualcosa o senti qualcosa poi incredibilmente ti sembra di sentirlo o di vederlo ovunque quella che ci fa dire quando abbiamo parlato di qualcosa al bar poi vediamo una pubblicità che si riferisce alla stessa cosa pensiamo oddio ci ascoltano dappertutto invece è soltanto un trucco, un'illusione della nostra mente vabbè tutto questo per dire che ho visto passare una news che riguardava il laboratorio di Los Alamos e io di recente ho visto Oppenheimer quindi probabilmente non avrei dato nessun peso a quella news però avendo visto il film mi sono in realtà chiesto cosa fosse stato poi dei laboratori di Los Alamos scoprendo che i laboratori di Los Alamos sono un centro di ricerca gigantesco, super importante negli Stati Uniti ci lavorano migliaia di fisici e però purtroppo ci fanno sempre esperimenti su armi nucleari questo è, tuttavia passava nel giro delle news tecnologiche perché ci hanno appena installato un super computer si chiama Crossroads e sostituisce il precedente Trinity per i più attenti Trinity era il nome del primo test nucleare di Los Alamos Crossroads è il nome del secondo test nucleare quindi la quarta esplosione nucleare della storia dopo Trinity, Hiroshima e Nagasaki ci sono stati i due in realtà test di Crossroads e questo super computer è un altro super computer creato da HPE e la particolarità peraltro è che non ha delle GPU super potenti deve eseguire molti calcoli perché deve simulare delle esplosioni nucleari però invece di usare delle GPU che sarebbero il chip più indicato per eseguire super calcoli però qui la cosa più importante è che trasferiscano dati, grosse quantità di dati molto rapidamente e quindi è più importante che ci sia un bus veloce per far passare questi dati con un'ampia larghezza di banda quindi si è optato per delle CPU in realtà quindi basate su Intel Xeon, le Sapphire Rapids, non mi ricordo come si chiamano comunque su quelle CPU perché hanno una larghezza di banda superiore quindi permettono di far passare molti più dati ed è questa una caratteristica fondamentale che deve avere il sistema per cui il calcolo viene eseguito sulle CPU invece che sulle GPU questa era la particolarità e niente, mi ha incuriosito questa notizia qua quindi ve l'ho data, magari anche voi qualche volta vi sarete chiesti che ne è di Los Alamos bene, adesso sapete che a Los Alamos c'è un mega centro di ricerca Los Alamos National Laboratory in cui si fanno test sugli armamenti nucleari però simulati almeno, almeno credo, spero vai con le news di oggi allora partiamo con una coppia di news che riguardano AWS la prima è l'acquisizione da parte di AWS di FIG FIG è un tool per la command line, per le linee di comando che dà una serie di strumenti che ne migliorano l'esperienza ad uso diciamo così, la rendono molto più simile a quella che potrebbe essere l'esperienza di un IDE di un editor avanzato, di un environment avanzato per editare codice ecco, vi porta questa esperienza sul terminale con una serie di strumenti come l'autocomplete oppure la visualizzazione diciamo più grafica ecco dei .files oltre a plugin e ad altre funzioni quindi vi dà un'esperienza di miglioramento generale del terminale è una startup, è stata creata qualche anno fa offre dei servizi gratuiti e dei servizi invece a pagamento bene, AWS in realtà, quindi la divisione cloud di Amazon ha appena acquisito questa startup quindi vediamo la notizia sul blog ufficiale di FIG data dal CEO Brandon Falk che quindi dice che appunto FIG entrerà a far parte della suite dei servizi di AWS dice anche che chi oggi è utente di FIG continuerà con lo stesso supporto di prima però in più tutte le feature a pagamento di FIG, quelli nel piano FIG Team diventano gratuite e per adesso quindi ci sarà una fase di transizione in cui FIG verrà integrato con AWS e poi si vedrà che cosa succederà ecco a queste feature a questi piani, a questi utenti quindi per il momento non ci sono update ulteriori su cosa succederà e neanche delle disclosure diciamo sui costi sostenuti da AWS che comunque non paiono essere particolarmente alti perché la valutazione di FIG non è stratosferica e neanche sulle motivazioni che hanno spinto AWS ad acquisire FIG ma TechCrunch va a fare qualche supposizione e in particolare parla della AI perché AWS è entrata diciamo nel gioco dell'AI nel generative AI game per mettersi in diretta competizione con Microsoft che ha naturalmente GitHub Copilot Google che ha lanciato un competitor e anche Meta che ha un tool simile a Copilot che funziona internamente ecco AWS ha lanciato il proprio tool per l'AI generativa sul codice che si chiama Code Whisperer e quindi l'idea potrebbe essere quella di integrare i suggerimenti di Code Whisperer con l'autocomplete di FIG e quindi creare un'esperienza di aiuto agli utenti che usano l'autocomplete di FIG però migliorata dall'intelligenza artificiale di Code Whisperer questo potrebbe essere un piano e magari anche aggiungo io offrire questo servizio con i terminali sui terminali sui servizi cloud di AWS peraltro si aggiunge poi nell'articolo di TechCrunch qualcuno potrebbe aver notato come è facile notare anche dalla stessa home page di FIG che tra i clienti di FIG ci sono Google, Microsoft, GitHub ecco e questi sono naturalmente competitor di AWS e quindi magari qualcuno potrebbe aver fatto notare a AWS che si poteva acquisire un servizio usato dai competitor magari prima degli stessi competitor ecco questa potrebbe anche essere una motivazione comunque non è una, ripeto, non è stata una spesa eccessiva potrebbe essere stata anche semplicemente una mossa di mercato prima che la facessero altri questa era un po' la notizia per il momento non ci sono ulteriori update quindi quando arriveranno magari seguiremo un po' l'evoluzione di FIG nell'ecosistema di AWS e rimanendo all'interno del mondo AWS di qualche giorno fa è la notizia del definitivo spegnimento delle istanze EC2 Classic EC2 Classic per chi si ricorda il 2006 quando fu lanciato EC2 era stata una mezza rivoluzione nel cloud queste istanze di computer cloud c'era solo una all'epoca c'era M1 Small che era l'equivalente di un Xeon a 1.7 GHz con 1.75 GB di RAM e 160 GB di disco locale con una certa e definita larghezza di banda con un costo di 10 centesimi all'ora di clock e questo è anche il metodo di computare il pricing era tutta una novità che in quell'anno io me lo ricordo bene perché feci questo passaggio da un hosting non mi ricordo se da un server privato o comunque da un hosting alle istanze EC2 e quindi era tutto così rivoluzionario e questo successe appunto 17 anni fa e a quel punto poi successivamente Amazon AWS aggiunse una serie di nuove feature a EC2 tanto che le istanze più vecchie quelle tradizionali diciamo che non erano rimanevano ancora sulla stessa rete e con gli stessi servizi vennero chiamati per distinguere da quelli nuovi EC2 Classic e nell'articolo questo vi segnala un articolo sul blog All Things Distributed che è il blog del CTO di AWS che è Werner Vogels dove appunto scrive questa elegia di EC2 Classic dove saluta EC2 Classic che tra l'altro inizia con una frase sibillina perché dice ritirare i servizi non è qualcosa che noi facciamo in AWS è abbastanza raro probabilmente una frecciatina a qualche competitor però appunto prosegui dicendo che nel 2021 era stato già annunciato che EC2 Classic sarebbe stato spento e il 15 agosto è stato effettivamente spento definitivamente il servizio poi va avanti distinguendo appunto facendo un distinguo tra EC2 Classic e EC2 invece EC2 è il servizio normale diciamo e la cosa fondamentale che differenzia questi due servizi è l'architettura della network perché EC2 Classic stava in una rete gigantesca flat e tutte le istanze di questa rete erano condivise insomma con tutti i clienti del servizio poi parla dei miglioramenti che AWS ha aggiunto a EC2 negli anni come l'Elastic IP l'autoscaling il load balancing CloudWatch altri tipi di istanza e poi VPC nel 2013 così che ogni cliente potesse gestire il proprio pezzo di cloud sicuro isolato e questo divenne praticamente il nuovo standard con cui veniva gestito EC2 e da quel momento Classic venne diciamo supportato è supportato per un decennio anche se EC2 nel frattempo parallelamente evolveva e è stato spento adesso soltanto dopo che tutti i servizi sono stati migrati al nuovo EC2 insomma allo standard EC2 con il supporto del team con le istruzioni con la documentazione con i tool per fare tutte le migrazioni in dolore una volta fatto questo è stato spento il servizio quindi conclude il post con un saluto un goodbye un arrivederci a quella che è stata una delle prime offerte di AWS quindi una delle prime uno dei primi vagiti del cloud computing possiamo dire davvero e quindi un arrivederci a Classic è stato molto bello nelle scorse puntate quando abbiamo parlato di ARM abbiamo parlato anche dei problemi che ha ARM nel vendere i propri prodotti in Cina perché con le sanzioni internazionali la Cina non può acquistare dell'hardware dei chip delle CPU che superino una certa potenza e quindi tra l'altro una delle tattiche delle strategie dei produttori è quella di vendere in Cina dei prodotti che sono downgradati in pratica che hanno meno potenza rispetto allo standard per poter appunto essere venduti e soddisfare i requisiti delle sanzioni ma siccome la Cina ha comunque bisogno di CPU potenti per la propria strategia soprattutto per le AI e una delle soluzioni a questo poteva essere quella di rivolgersi all'architettura RISC-V che è un'architettura aperta che chiunque può liberamente usare scaricare modificare e rivendere non ci sono limiti anche alla rivendita commercialmente e quindi questo poteva essere un ottimo piano ecco per prodursi internamente i propri chip ed è appunto notizia del 31 di agosto che i più grandi produttori di chip alcuni dei più grandi produttori di chip cinesi su architettura RISC-V hanno creato una alleanza diciamo sui brevetti quindi un'alleanza sui brevetti basati su RISC-V ecco su RISC-V punto org scritto RISC-V proprio punto org trovate questo sito dell'alleanza RISC-V International che è una sorta di ente che supervisiona l'architettura RISC-V e i propri avanzamenti insomma quello che succede è un'architettura anch'essa come ARM basata su RISC ma è un'architettura totalmente aperta ecco e quindi la notizia appunto è che questi produttori cinesi hanno formato un'alleanza per i brevetti questo si chiama China RISC-V Industry Alliance e quindi questo significa che ora questi produttori potranno scambiarsi conoscenze creare chip per il mercato interno senza diciamo avere la paura che ci siano dei tribunali che intervengano in questo in questo processo e quindi anche creare dei dei chip dei chip delle CPU basate su RISC-V che possono competere con quelle che non possono più acquistare da fuori e quindi leggo da un articolo di The Register che appunto l'AI e il trattamento di grosse quantità di dati è alla base della scelta di dover avere delle CPU potenti per poter competere con il mercato internazionale quindi senza poter acquisire chip potenti non c'è modo di soddisfare questi requisiti ecco che crearsi internamente dell'hardware basato su RISC-V è un'alternativa assolutamente plausibile si ricorda anche che RISC-V non è totalmente open source come potreste immaginarvi le licenze open source più permissive come GPL cioè non richiede che i progetti basati su RISC-V siano a loro volta totalmente open source anzi un progetto basato su questa architettura può essere totalmente chiuso questo lo dice proprio la FAQ di RISC-V e in chiusura qualche giorno fa è arrivata anche una risposta a questo articolo da parte della China RISC-V Industry Alliance in cui viene rimanito che l'obiettivo è quello di creare un ecosistema di brevetti che non porti a litigation ecco quindi che non porti a contrasti tra i produttori e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della tecnologia RISC-V quindi vi avevo promesso che ci avremmo avremmo parlato di RISC-V ecco qua un primo passo poi dopo sarà interessante anche parlare di cosa sta avvenendo nell'ecosistema Linux su RISC-V perché nei nuovi canali Linux stanno venendo aggiunte sempre più nuove feature dell'architettura RISC-V quindi è un player interessante sicuramente da tenere presente da tenere d'occhio oh e torniamo dai nostri amici di OpenTF il fork annunciato di Terraform e oggi da qualche giorno dal 5 settembre abbiamo anche disponibile pubblicamente il fork del repository proprio di Terraform non solo del manifesto di tutto quello che c'è attorno della roadmap ma anche del codice del fork vero e proprio lo trovate quindi su GitHub sempre sotto OpenTF Foundation slash OpenTF e qui c'è tutto il codice sorgente e quindi sul blog ufficiale della fondazione che non è una fondazione di questo gruppo OpenTF si va appunto a ribadire che siccome non ci sono state risposte da parte di Eschicorp ecco che il private fork era stato creato e oggi questo fork è pubblico e disponibile quindi si parla appunto della volontà di lavorare in pubblico ecco con tutte le novità che verranno aggiunte al software saranno rese pubbliche da qua in avanti c'è una roadmap che già avevamo visto sul repo di GitHub da quello che è stato già fatto e quello che verrà fatto con i prossimi passi che saranno quella della creazione di un OpenTF registry perché il registry di Terraform mantenuto da Eschicorp non potrà essere usato da OpenTF o da qualsiasi fork di Terraform perché ci sono appunto stati dei cambiamenti sul registry di Terraform che non permettono di essere usato con i fork e poi verrà creato un processo per rilasciare nuove versioni di OpenTF e si arriverà appunto poi a una alpha release per creare l'OpenTF è stata aperta una rfc quindi un request for comment trovate su GitHub quindi potete andare a vedere come prosegue la discussione sulla creazione di questo registry e magari contribuire e poi arriverà finalmente la stable release quindi noi saremo qua sempre a seguire ve l'avevo detto questo progetto che comunque è comunque un fatto molto significativo interessante nel panorama open source e vale assolutamente la pena di seguirlo adesso vi metto a parte di una notizia che mi consente di autocitarmi perché qualche giorno fa la OpenSSF che sapete che è la Open Source Security Foundation che è parte della Linux Foundation e promuove best practice e standard per la sicurezza nell'open source ecco ha scritto in un blog post ha lanciato un manifesto in un processo ispirato dall'agile manifesto ha lanciato quello che si chiama Open Source Consumption Manifesto ed è interessante secondo me vi consiglio assolutamente andare a leggere questo blog post anche perché è abbastanza breve fondamentalmente va a spiegare il perché le motivazioni che hanno portato la scrittura di questo manifesto e quali sono i principi alla sua alla sua base fondamentalmente come la già manifesto è una serie di pratiche di best practice di linee guida ecco che dovrebbero portare a un utilizzo più consapevole e più sicuro di software Open Source tutta la premessa dell'articolo è che naturalmente oggi l'open source è ovunque ogni compagnia praticamente ogni tech company ma non solo nel mondo utilizza software Open Source e quindi la sicurezza della supply chain quindi di tutto lo stack tecnologico di tutte le dipendenze e le dipendenze delle dipendenze insomma di tutto quello che sta attorno all'ecosistema software di un'azienda deve essere trattato in modo sicuro ne va di tutto l'ecosistema non soltanto della sicurezza di una singola azienda ma siccome è tutto interconnesso ecco che ne va della sicurezza di tutto il sistema quindi con questo manifesto ci sono 15 principi 15 linee guida che vanno un po' a guidare il corretto utilizzo in sicurezza del proprio stack Open Source quindi con l'idea che le aziende utilizzino in modo consapevole quello che fanno quello che scaricano il software che scaricano e che mettano anche i propri developer i propri sviluppatori nella condizione di lavorare in modo sicuro e consapevole e poi che si adottino delle pollici delle pratiche iterative in tutte le operazioni che si fanno nell'adozione nel consumo quello che viene chiamato consumo del software quindi ecco consiglio a tutti a tutte le aziende a tutte le organizzazioni ma anche agli individui ecco di leggersi questo manifesto e di farlo proprio perché sono linee guida assolutamente importanti non sono regole ferre ma sono proprio dei principi che dovrebbero guidare nell'adozione e uso di software open source dicevo che volevo autocitarmi perché ne ho scritto un articolo a compendio a corredo a commento di questo open source consumption manifesto abbreviato in oscm questo mio articolo lo trovate sul tech blog di spark fabric si intitola sempre the open source consumption manifesto e vado a sviscerare un pochino commentare ma anche un po' dettagliare quello che è tutto il pregresso quello che ha portato la open ssf a scrivere questo manifesto e un po' a scrivere quali sono dettagliare un po' quali sono le pratiche suggerite le motivazioni che vi hanno portato a fare anche un po' un riassunto dei principi cardine che appunto lo animano e quelle che potrebbero essere le motivazioni principali anche per le organizzazioni per adottarlo quindi se vi va di leggere un qualcosa che corredi e magari spieghi un po' che cos'è oscm ecco vi invito vi porto vi linko il mio post sul blog di spark fabric quindi shameless plug andatevi a vedere il tech blog di spark concludo rapidissimamente con due cose sul v3c avevo parlato l'ultima volta di astro e della sua implementazione delle view transitions che sono web api e quindi del suo del loro processo all'interno delle v3c ecco è uscito da qualche giorno l'invito del v3c alle implementazioni appunto del draft su css view transition module level 1 quindi si invita proprio ad andare a commentare a verificare e a fare implementazioni di questo del view transition module level 1 e quindi è passato a un nuovo livello quindi al candidate recommendation snapshot proprio il 5 settembre e questo è proprio un update a questa API di cui vi parlavo e ce n'è un secondo di update perché è anche arrivato il primo draft il primo working draft pubblico di css transitions level 2 che non è la stessa cosa ma è correlata alla precedente perché sono una serie di proprietà in css che vanno a stilizzare a stilare ecco le appunto le transizioni quindi abbiamo la durata e la delay i behavior insomma abbiamo una serie di proprietà css che vanno proprio a decorare queste transizioni che sono tutte documentate su questo first public working draft che al momento quindi è nello stadio iniziale può solo essere letto ecco non ci sono richieste di commenti o di implementazioni è proprio nel primo draft che il working group sta portando avanti però questo processo è pubblico e quindi potete andare a vedere anche che cosa sta succedendo in un css transitions che potrebbe diventare in futuro parte di css quindi essere nel toolkit di ogni developer che si rispetti ecco quindi aggiungo anche questo al discorso sulle view transitions che consiglio di seguire ed era anche tutto per questo buongiornissimo quindi grazie di averlo seguito naturalmente ci possiamo sentire su tutti i social che volete ma si apre anche una stazione di eventi quindi magari se bazzicate qualche evento in giro per l'italia ci si beccherà lì intanto adesso sapete che l'autunno è proprio la stagione clou da qua a dicembre praticamente sarà tutto un susseguirsi di eventi e io spero di riuscire ad andare a parecchi quindi magari ci si becca quindi niente grazie a tutti e alla prossima ciao